Essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile per l'anima tollerare gli oltraggi e i colpi dell'ingiusta fortuna, o impugnare le armi contro un mare di dolori e, affrontandoli, finirli. Morire, dormire, null'altro, e dire che con quel sonno poniamo termine alle angosce del cuore e ai mille affanni naturali di cui è erede la carne, è una soluzione da essere devotamente desiderata. Morire, dormire, dormire, sognare forse, ecco il punto, giacché quali sogni possono sopravvenire in quel sonno di morte, allorché reciso abbiamo il filo di questo mondo? Ecco quel che ci trattiene, ed è ciò che prolunga talmente la nostra sfortuna, poiché chi altrimenti sopporterebbe i flagelli del tempo, gli oltraggi degli oppressori, le contumeli dei superbi, le angosce dell'amore disprezzato, le cabale della legge, l'insolenza dei governanti e i vivi pendi che il merito, paziente, soffre dalla bietta ignoranza, quando un ferro gli basterebbe per darsi quiete. Chi vorrebbe sopportare questi fardelli e gemere e affannarsi, trascinando un'inferma vita, se non fosse per il timore di qualche cosa al di là della tomba, di quel paese ignoto da cui nessun viaggiatore ritorna, che turba la volontà e fa preferirci i mali che abbiamo piuttosto che affrontarne altri che non conosciamo. Così la coscienza ci rende codardi e il colore vivo della risoluzione rimane offuscato dalla pallida ombre del pensiero. Così le imprese di maggior polso, in momento, sono distratte dal loro corso naturale e delle azioni perdono fin anche il nome. Pace ora. Ecco la bella Ophelia, ninfa. Nelle tue orazioni siano ricordati tutti i miei peccati.